gamma di sentire io che cosa ho a che fare con un terrorista con uno stupratore con un rapinatore con le persone cattive in genere commento per la legge tu il terrorista lo stupratore il rapinatore le persone cattive siete immensamente uguali perché appartenete tutti all'immensa gamma di sentire incarnata nella condizione umana